e non fare la banana flambe da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi mamma mia anche oggi un sacco di news belle fresche per quello che riguardano i prossimi giorni di fortnite tanta roba super interessante per tenervi aggiornati su tutto quello che sta per arrivare ma anche che sta per accadere nel video di oggi ragazzi parleremo di questo pack chiamiamolo così che contiene dentro anche mille vbucks ve ne avevo già parlato tantissimo tempo fa è finalmente disponibile lo vedremo durante il video il nuovo arco ragazzi una delle armi più attese del nostro battle royale sta per fare la sua comparsa vi farò vedere delle immagini e vi darò delle indicazioni ufficiali sulla data di rilascio e poi un grande spoiler durante l'evento lux su mobile si è scoperto qualcosa sul nuovo furgone per il respawn intanto voglio ragazzi ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore raga per supportare il canale mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live però prima ragazzi dai prima lo sapete la domandina raga vi devo fare la domandina questa è bella raga è questa è bella i vostri commenti qua sotto mi raccomando e la domanda è preferisci 500 o 999 di maz che in poche parole si può riassumere su preferivi quando si poteva ottenere salute shield quando si chillava la gente ma solo 500 di maz o adesso è una delle cose che ha scaldato di brutto la community mondiale di fortnite e io sono quasi convinto che epic games prenderà dei provvedimenti forse addirittura dalla prossima patch per calmare un po gli animi io personalmente preferivo i 500 di maz mi piaceva veramente tantissimo si giocava da dio le vostre opinioni qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e vado alle ciance andiamo subito ragazzi a vedere una delle nuove modifiche alla mappa lo avete scoperto sicuramente siamo al nostro sprofondo stantio ragazzi dove da qualche ora sono apparsi i nuovi escavatori come notiamo sopra il rimorchio dei camion arrivano ragazzi le ruspe che come vi avevo annunciato qualche giorno fa potrebbero cominciare i lavori di scavo per cercare chissà cosa sappiamo che nel bioma del deserto c'è già uno scavo bello che attivo dove si può recuperare la pietra e liberare un geyser ma sappiamo che ce ne saranno altri nella mappa l'unica cosa che ci manca è perché stanno scavando nella mappa secondo me ragazzi ovviamente c'entrerà quasi certamente la storyline della end season 8 o addirittura della season 9 potrebbe dedicarsi la season successiva a quello che succede sotto di noi se ne parlò tanto tempo fa ancora non abbiamo niente di ufficiale ma io vi informo su anche ogni minimo cambiamento ma andiamo avanti e questa la conoscete tutti è ovviamente la schermata di caricamento della season numero 8 che nascondeva un bel po di elementi nella data di uscita elementi tutti trovati poi nel corso delle settimane sul nostro battle royale quello che ci interessa oggi è proprio lui ragazzi il nostro nuovo arco dopo la balestra arriva un'altra arma che utilizza dardi o comunque frecce e sappiamo per certo che questo arco dovrebbe essere rilasciato questa settimana perché sono state trovate le sfide della settimana 6 che ancora non vi mostro perché voglio essere sicuro prima di farvele vedere e c'è una missione che dice di fare danni ai nemici con l'arco quindi potrebbe arrivare in questa settimana ma siccome come vi ho detto la fonte non non la conosco ancora bene aspettiamo un attimino quello che però posso farvi vedere è che in game sono apparse delle cose relative all'arco questa ragazzi che cazzo è per vedere l'arcobaleno no ragazzi no questa dovrebbe essere la traiettoria della freccia scoccata quindi un effetto grafico che si vedrà al momento della freccia quando viene scoccata e non solo vi faccio anche vedere quello che dovrebbe essere il mirino di quando imbracciamo comunque di quando utilizziamo l'arco quindi ragazzi poi penso che bisogna stabilire la traiettoria della freccia stessa che in realtà nelle armi non esplosive dovrebbe essere abbastanza rettilinea quindi ragazzi due nuovi elementi che confermano ovviamente che l'arrivo dell'arco è assolutamente prossimo ma andiamo avanti ed ecco qua ragazzi ed ecco qua un'immagine super interessante fa parte della nuova possibilità di ottenere mille vbucks a sgrava relativamente ufficiali e senza nessun bug questa ragazzi trovate questa immagine nel sito ufficiale di samsung e sono i wallpaper e le schermate di caricamento iniziali e finali del nuovo pack che vi verrà dato con l'acquisto della nuova cover per il samsung note 9 ne avevamo parlato un bel po di tempo fa finalmente è disponibile ufficialmente nello store eccola qui ragazzi la cover ufficiale di fortnite l'unica cover ufficiale di fortnite qua la vediamo dietro e davanti molto bella e c'è da dire che è veramente bella che una volta acquistata 40 40 pleuri vi darà mille vbucks direttamente nel vostro account ma per tutti i possessori della skin galaxy l'ultimo tassello mancante del set galaxy quindi lo spray dell'ama che era stato già spoilerato ai tempi da uno youtuber di fama mondiale che adesso risulta essere quindi ufficiale quindi ragazzi se ci tenete a completare perfettamente il vostro set della skin galaxy c'è da pagare però considerate che vi anche mille vbucks ma andiamo avanti ed eccola qua ragazzi l'immagine che spoilera la possibilità di utilizzare il furgone di respawn in game qua ragazzi siamo nell'evento lux la lux cup fatta pochi giorni fa forse ieri o l'altro ieri e nella sezione dedicata al furgone quindi avvicinandosi al furgone si può notare come appaia il pop up informativo che dice reboot card is required quindi confermato il leak che vi dissi oramai un mesetto fa per far funzionare il furgone bisognerà recuperare da qualche parte nella mappa la tessera che permetterà una volta inserita di farlo attivare e di quindi portare nuovamente in vita un nuovo e un vostro compagno di squadra una cosa veramente molto interessante e che sicuramente stravolgerà per qualche modo il gameplay del nostro fortnite ma che sicuramente se hanno inserito avranno i suoi buoni motivi beh ragazzi direi che per oggi le news ve ne ho dette abbastanza io voglio ringraziarvi tantissimo per utilizzare il mio codice creator xioderone per iscrivervi al canale vi ricordo live oggi alle 13 noi ci vediamo presto ciao 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 ciao